Musica Azienda Simera Battipaglia, nessun licenziamento Paura in piazza della Repubblica Battipaglia, cede grosso albero Arrestato latitante salernitano, si rifugiava di Ibiza Tragedia sfiorata a Capaccio, bimbo avvia auto Sigili all'hotel Italia di Salerno, sette arresti Violenza ultra a Battipaglia, accusa di tentato omicidio Servizio 118, la CISL chiede incontro a Squillante Battipagliese Calcio, divieto di trasferta a Rende Non ci sarà nessun licenziamento alla Simer Questa azienda sta facendo grandi investimenti Chi dice il contrario non conosce questa realtà La dirigenza, per bocca del direttore del personale Smentisce le voci che riguardano una vertenza in corso All'interno della fabbrica, che sorge su Viale Brodolini E che produce pastiglie per i freni a disco e ganasce Stiamo evitando i licenziamenti di cui si parla da tempo Non ci sono riduzioni del personale all'orizzonte La fabbrica è sana Il direttore del personale ha fatto riferimento Ad un massiccio programma di aggiornamento tecnologico Che dovrebbe consentire all'azienda di conquistare mercati sempre più vasti Tragedia sfiorata a Battipaglia Quando un grosso ramo è precipitato al suolo in piazza della Repubblica Grande spavento delle persone presenti Il ramo, lungo diversi metri, è caduto con grande frastuono Piegando la ringhiera che delimita l'aiuola Al momento del crollo, per fortuna, nessuno si trovava in prossimità Le dimensioni del ramo hanno subito fatto pensare alla tragedia sfiorata Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di eboli Che hanno messo in sicurezza la zona Rimuovendo altri tre grossi rami pericolanti Ma sono diversi i casi di alberi morti lasciati seccare Senza che nessuno provveda la loro rimozione e sostituzione In questa situazione sono in molti a protestare La squadra mobile di Salerno, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e la Polizia Spagnola Ha catturato ad Ibiza nel pomeriggio di ieri il 53enne salernitano Adamo Pisapia L'uomo si era reso irreperibile da ottobre del 2013 Per sortrarsi all'esecuzione di un provvedimento di carcerazione di 6 anni e 6 mesi Conseguente alla sua condanna definitiva per associazione per delinquere di tipo camorristico Estorsione ed altro Il Pisapia è stato condotto presso il Commissariato di Polizia di Ibiza E sottoposto ad arresto provvisorio ai fini estradizionali In esecuzione del mandato di arresto europeo Lascia le chiavi inserite nel quadro e la marcia inserita Il figlio fa partire l'auto che sbatte contro un'agenzia immobiliare È accaduto nella tarda mattinata di oggi lungo via Magna Grecia Stando ad una sommaria ricostruzione La donna del posto, alla guida di una Ford Fiesta, ha lasciato l'auto in sosta Con due bambini dentro Seduti nella parte retrostante per recarsi in un'attività commerciale Uno dei due è saltato sul sedile di avanti e ha girato le chiavi L'auto è partita e accompiendo circa due metri Finendo sotto il muro della porta d'ingresso di un'agenzia immobiliare Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo danni materiali Sette misure cautelari nei confronti di cittadini salernitani e rumeni Per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione Il sequestro del centralissimo Hotel Italia a Salerno Si è conclusa così l'operazione denominata Ci vediamo in albergo della Polizia Postale di Salerno Gli agenti su disposizione della Precura della Repubblica di Salerno Hanno eseguito anche il sequestro preventivo dell'albergo situato in corso Vittorio Emanuele Il blitz è scattato ieri mattina a seguito di medicolosi indagini Svolte dalla Polizia Postale che hanno fatto emergere l'utilizzo delle camere dell'albergo Da parte di alcune escort Le persone sottoposte alle misure cautelari sono il titolare dell'Hotel Italia Armando Tortora I cittadini romeni Valerica Nestase, Vasile Nastase, Viorel Brau, Julian Cosmin Bogatu Tutti residenti a Capaccio Agli arresti domiciliari sono finiti il portiere dell'albergo Aurelio Antonucci e Sergio Storniello Tentato omicidio Questa la pesante accusa formulata dalla Procura della Repubblica di Salerno Nei confronti di quattro ultra della Cavese Che il 24 agosto scorso al termine della partita battipagliese-Cavese Valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie D Hanno ferito gravemente un giovane tifoso delle Zebrette Finito in prognosi riservata Per altri otto bianco-blu il questore di Salerno Ha emesso divieti di accesso alle manifestazioni sportive che vanno dai 3 ai 5 anni I reati che hanno determinato i DASPO sono di risse aggravate E violazione della normativa sulla sicurezza negli stadi Per i quattro ultra accusati di tentato omicidio I fatti contestati si riferiscono al ferimento di un giovane tifoso della Battipagliese Ricoverato al locale ospedale con un trauma cranico E ferite considerate guaribili con prognosi riservata Altri 22 DASPO sono stati emessi per altrettanti tifosi della Battipagliese Organizzazione del 118 La CISL chiede un incontro urgente al direttore generale dell'ASL La richiesta arriva dopo il decreto squillante Di liquidazione delle spettanze al personale infermieristico Impegnato per la garanzia del servizio Il direttore squillante scrive in una nota Pietro Antonacchio dovrebbe dire ai suoi dirigenti di trovare soluzioni compatibili Con le risorse disponibili attraverso una vera riorganizzazione dei servizi Il manager squillante ha spiegato che l'ex ASL Salerno 3 Era l'unica in cui il servizio era ancora gestito dagli infermieri Non essendo in numero sufficiente per garantire il servizio Dovevamo fare ricorso a progetti incentivanti Che hanno provocato ritardi nei pagamenti Ho scritto ai sindacati per verificare se si potevano utilizzare i fondi del salario di risultato Non abbiamo trovato l'accordo E abbiamo scelto di esternalizzare il servizio Per uniformarlo a tutta l'azienda La prefettura di Salerno ha ordinato il divieto di trasferta Per i tifosi bianconeri in occasione della gara di domenica a Rende L'ordinanza ha proibito la vendita dei biglietti Per assistere alla gara tra Rende e Battipagliese A residenti nella provincia di Salerno La società, tramite il presidente Carmine Ferrara Esorte i propri tifosi a non recarsi domenica a Rende Si invitano anche i propri sostenitori a mantenere un comportamento corretto e sportivo Sia in campo che fuori Tutti noi dobbiamo farci portatori dei principi di uno sport leale Rispettoso delle regole e simbolo di evoluzione della comunità Della quale la squadra espressione, afferma il presidente Ferrara Si ricorda che eventuali manifestazioni di intolleranza o di indisciplina Danneggiano la società e i calciatori Con il rischio anche di penalizzazioni Privandoli della possibilità di disputare gli incontri del torneo Dinanzi al pubblico di casa